Succo di pomodoro e prezzemolo contro la ritenzione idrica. Il prezzemolo è ricco di elementi antiossidanti e sali minerali utili per depurare i reni ed eliminare il sale presente in eccesso nel sangue. L'edema è un'infiammazione che si produce quando il corpo ha difficoltà ad eliminare i liquidi che si vanno ad accumulare sotto la pelle e nei tessuti che circondano il sistema circolatorio. Più che una patologia, potremmo definirla un sintomo caratteristico di alcuni disturbi che possono riguardare i reni, l'apparato digerente o il cuore. Si può cominciare a pensare ad una ritenzione idrica quando, improvvisamente, si notano le gambe, le braccia, il viso o la pancia insolitamente gonfi. Perché si verifica la ritenzione idrica? Lo stile di vita attuale e le abitudini sedentari hanno incrementato i casi di persone che soffrono periodicamente di ritenzione idrica. Questa condizione è il risultato di una perdita di equilibrio tra i liquidi del nostro corpo che si verifica quando i vasi sanguigni portano molta acqua ai tessuti oppure quando questa si deposita nei tessuti senza ritornare ai vasi sanguigni. Tra le cause che possono dare origine a questo disturbo ricordiamo, alterazioni dei vasi linfatici, cambiamenti ormonali legati alla gravidanza o al ciclo mestruale, insufficienza cardiaca, sovrappeso e obesità, insufficienza epatica, vene varicose, altre malattie infiammatorie, pomodoro e prezzemolo Per combattere la ritenzione idrica Tenere sotto controllo la ritenzione idrica è di grande importanza dal momento che, oltre ad avere un impatto estetico, può portare a problemi di salute più seri, come nel caso dell'ipertensione. Il succo di pomodoro e prezzemolo è una bevanda con proprietà diuretiche che aiuta a combattere questo disturbo. Stimola il buon funzionamento dei reni e l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Sia il pomodoro che il prezzemolo possiedono proprietà nutrizionali molto importanti, quindi, mentre combattiamo la ritenzione idrica, forniamo al corpo anche altre sostanze che fanno bene alla nostra salute. Le proprietà del pomodoro Il pomodoro è uno degli ortaggi tipici della dieta mediterranea, ma entra anche nella composizione di molti altri piatti nelle cucine di tutto il mondo. Per il suo alto contenuto di potassio, è tra gli alimenti più indicati per contrastare la ritenzione idrica o altri disturbi come la pressione arteriosa alta. Migliore il funzionamento dei reni, stimola l'eliminazione delle tossine e agisce anche in modo positivo sull'apparato digerente. Le proprietà del prezzemolo Per il prezzemolo alcune persone fanno un po' fatica ad introdurre questo alimento nella loro dieta. Bisogna però ricordare che si tratta di una fonte ricca di antiossidanti, vitamine A, B1, B2, C e D e sali minerali come il potassio. Queste sostanze permettono al prezzemolo di ripulire i reni e il fegato e di stimolare l'eliminazione di sali e tossine in circolo. Contiene, inoltre, la clorofilla, un principio attivo che contribuisce a migliorare la digestione e a prevenire molte malattie come il cancro, le infezioni e i problemi cardiaci. Come si prepara il succo di pomodoro e prezzemolo La preparazione di questo succo disintossicante è molto semplice, con poco sforzo, otterremo un buon rimedio contro la formazione degli edemi. Gli ingredienti base sono ovviamente il pomodoro e il prezzemolo, ma vi consigliamo anche di aggiungere qualche foglia di crescione per potenziarne l'effetto. Ingredienti 2 pomodori maturi 1 manciata di prezzemolo 1 manciata di crescione 1 bicchiere di acqua 200 ml 1-2 limone Facoltativo Preparazione Lavate accuratamente i pomodori, il prezzemolo e il crescione per essere sicuri di aver eliminato tutti i residui chimici e la terra. Adesso, tagliate a pezzi i pomodori e metteteli nel frullatore insieme al prezzemolo e al crescione. Aggiungete il bicchiere d'acqua e frullate per alcuni secondi, fino ad ottenere una miscela omogenea. Appena è pronto, servitelo e se vi piace il sapore acidulo, potete aggiungere il succo di mezzo limone. In che modo lo assumiamo? Affinché l'organismo assimili nel modo migliore tutti i suoi nutrienti, vi consigliamo di bere questo succo nelle prima parte della giornata, almeno 45 minuti prima di fare colazione. Potete prenderne fino a tre bicchieri al giorno, gli altri due preferibilmente prima dei pasti principali.